Buonasera a tutti da Montefeltro TV, siamo qui con il candidato Gianluca Caraps, quota verde nella lista Uniti per le Marche in appoggio a Luca Cerigioli. Che cosa dire praticamente di Gianluca Caraps? Beh innanzitutto entriamo proprio nel vivo della sua campagna elettorale, una campagna elettorale devo dire molto singolare perché di solito si vedono questi manifesti anche tre metri per due con il candidato che esibisce la propria faccia, va in bicicletta, non so, oppure invece lui ha una campagna elettorale intelligente e propositivo, quindi arriva, introduce con la sua faccia perché chiaramente e poi ci propone dei progetti, quali sono questi progetti? Innanzitutto i nostri progetti partono con un claim cosiddetto, con uno slogan, lo slogan dei nostri progetti è rigeneriamo le Marche e il finale amo, il finale maiuscolo perché voglio ricordarlo a tutti, sono un marchigiano per scelta, cioè vuol dire che non sono nato nelle Marche, sono nato in un paesino della provincia di Avellino e ho scelto di vivere nelle Marche e adesso quando ci riferiamo a questa rigenerazione delle Marche ci rendiamo conto che in questa crisi strutturale il sistema Marche, quello che per tanti anni ha dato qualità della vita, ha dato posti di lavoro, ha dato progetti, sostanza a questa regione si è esaurito, è il cosiddetto modello FUA, ma non per colpa dei marchigiani, per colpa di una globalizzazione dei mercati che non ha portato a una globalizzazione dei diritti e quindi ha favorito paesi soprattutto diversi dall'Italia ad avere una competizione sulla trasformazione delle materie prime sul lavoro, ad avere una competitività sfrenata perché nei loro paesi non ci sono regole, non ci sono le previdenze che ci sono in Italia quindi oggi competere sul mercato sul prezzo è impossibile, quindi bisogna rigenerare questo modello di sviluppo delle Marche, mettere al centro i cosiddetti giacimenti naturali, paesaggio, ambiente, beni culturali, manifattura sì ma manifattura di precisione, una manifattura che non può essere copiata, non può essere riproposta, bisogna puntare quindi sulla qualità, sull'innovazione e sulle capacità dei talenti, ecco perché c'è bisogno poi di creare questo modello di sviluppo attraverso una leva, sicuramente ci vogliono degli anni però bisogna partire e lo si fa oggi perché? Perché siamo alla vigilia di una programmazione europea di ripartizione dei fondi comunitari i quali possono dare quello start up a questo nuovo modello che si basa su quello che dicevo prima, un miliardo e 163 milioni di euro che chiaramente vengono ripartiti tra piano di sviluppo rurale, tra fondi sociali europeo, tra fondo regionale per lo sviluppo, sono risorse importanti che ripartite possono far decollare un territorio. Io ho voluto attraverso questi temi, attraverso quei cartelli che lei menzionava prima, dare proprio un segnale. Noi abbiamo un'idea per le marche, abbiamo un'idea per questo entroterra, abbiamo un'idea per il Montefeltro, vogliamo che questa idea prenda forma attraverso le nostre proposte. Ecco, per quanto riguarda il Montefeltro, lei ha un progetto e vorremmo capirlo bene per quello che riguarda l'agroalimentare. Noi sappiamo che ci sono delle produzioni, però è anche vero che abbiamo un territorio poco esteso e quindi si andrà forse molto probabilmente per delle piccole produzioni di nicchie. Questo è penalizzante per il nostro Montefeltro? Che cosa si può fare? Cosa possono fare i nostri agricoltori per poter avere uno sviluppo che magari può invece esserci nelle basse marche? Noi innanzitutto qui nel Montefeltro più di ogni altra parte, mi permetto di dire, non sono delle marche, ma d'Italia abbiamo un binomio che è straordinario, che è quello tra cultura e agricoltura. Siamo qui oggi a Mercatale di Sasso Corvaro, nel Sasso Corvaro c'è una rocca straordinaria, bellissima, che attraverso poi delle attività, ne ricordo una per tutte, il premio Rotondi. È una grande iniziativa culturale che abbinata, diciamo, una valorizzazione delle tipicità, delle eccellenze territoriali, possono avere quel passo in più. Non bisogna produrre tanto, l'importante è produrre in maniera di grande qualità, con grandi eccellenze e penso che questa grande produzione, che è data non solo dalla biodiversità di questi posti, faccio un esempio, se qui troviamo un formaggio straordinario, non voglio fare pubblicità occulta ai prodotti di qualità, però il mio caro amico Emilio, parliamo di una produzione casearia di grande qualità, parliamo di cavo e spada, producono qui a Sasso Corvaro, non solo perché, vi ripeto, c'è una biodiversità incredibile dove, se siamo noi ciò che mangiamo, anche praticamente il bestiame quando mangia è ciò che mangia. Quindi questa biodiversità arricchisce, diciamo, questo latte, poi trasformato in un certo modo diventa un formaggio che viene richiamato in tutta Italia. Devo dire che siamo stati ad Italy, da Farinetti, a promuovere il Urbino e il Montefeltro. Uno dei prodotti che abbiamo venduto di più è stato proprio questo formaggio. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare dei centri di alta formazione su il trasferimento di questo know-how. Allora oggi dove si può, le chiedo, imparare a fare il formaggio? Da nessuna parte. Noi vorremmo che si attivassero dei corsi di formazione sull'arte casearia qui proprio a Sasso Corvaro. E quindi attraverso, abbiamo un esempio eclatante sul nostro territorio in questa provincia. Se abbiamo alcuni anni fa, circa 30, istituito il centro di tartificoltura a San Angelo in Vado, perché quella era una terra, è una terra come questa, avvocata per il tartufo, per la coltivazione del tartufo e quindi per studiare e sperimentare la ricerca applicata. Noi vorremmo che Sasso Corvaro, da un lato la cultura, dall'altro l'arte casearia diventi praticamente un simbolo di quella eccellenza, di quel know-how che viene trasferito anche agli altri. Allora perché non creare un riferimento nazionale o internazionale dove poter venire a Sasso Corvaro a imparare a fare il formaggio. Questo mettere insieme quindi da un lato l'agricoltura, dall'altro la cultura e dall'altro ancora l'alta formazione o la formazione specialistica, questo diventa un centro di sviluppo importante che non altera il territorio, che è uno sviluppo sostenibile ma che crea, come dire, in coming turistico, crea economia per questa città. Pensare che ogni anno potessero arrivare qui 100-200 studenti a imparare a fare il formaggio e poi essere ospitati in questi posti straordinari potrebbe da un lato favorire il turismo, un turismo diciamo culturale, dall'altro integrare quel reddito che chiaramente oggi non c'è per mancanza di antropizzazione e quindi questo potrebbe essere un asset importante. Bene, quindi formazione, formazione, non bisogna stancarsi di formare i giovani. Ma per quanto si riferisce invece al connubio tra agroalimentare e cultura, come lo vede? Ci faccia un esempio, magari una proposta? Sì, io innanzitutto penso questo. Penso che il Montefeltro, è arrivato il momento che il Montefeltro deve essere pronto a riorganizzarsi anche dal punto di vista amministrativo. Noi abbiamo un grande brand, un grande marchio, che è quello del Montefeltro, è quello di Urbino e il Montefeltro, un territorio che insieme anche io lo allargherei addirittura anche a San Marino, perché abbiamo un bacino molto interessante, pieno di beni culturali, pieno di qualità alimentare, pieno di biodiversità, che è quasi un unicum. Quindi mettere insieme, quando parlavo di un'organizzazione anche amministrativa, io penserei in prospettiva a una sola unione comunale che abbia il suo riferimento ad Urbino e il Montefeltro, per diventare finalmente una forza diciamo democrafica, territoriale, politica, da poter contrastare, tra virgolette, il predominio della costa. Quindi quell'azione data da una capacità, diciamo, di persone, quindi una capacità demografica che in questo momento ci vede penalizzati perché siamo parcellizzati. Allora da questo punto di vista, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche dal punto di vista turistico e quindi culturale, poter valorizzare e narrare ciò che è di bello c'è in quest'Urbino e il Montefeltro. Allora iniziamo a creare un paniere dei prodotti di Urbino e il Montefeltro, iniziamo a creare una proposta integrata del turismo. Allora la prima cosa è visitare tutte le Rocche e Castelli, tutti i palazzi che ci sono su questi territori, fare delle iniziative congiunte. Allora proporrò personalmente a Vittorio Sgarbi di creare un percorso itinerante, quindi delle mostre itineranti che parte da Urbino e finisca a Carpegna passando per Sassocorvaro, Pian di Meleto, in queste zone che chiaramente hanno rappresentato una vivacità culturale in un periodo storico molto importante, il Rinascimento. Voglio ricordare, forse gli ascoltatori molte volte lo dimenticano, come fino a poco tempo fa non avevo neanche io l'importanza di questo dato. L'80% delle opere d'arte dell'umanità sono state concepite in quel periodo storico che si chiama Rinascimento e nel quale il nostro territorio ha avuto un ruolo fondamentale, trainante, attrattivo. Oggi questo territorio può fare la differenza su scala internazionale. Bene, parlava lei prima, citava Sgarbi e dobbiamo appunto ricordare che i Verdi sono riusciti a portare Sgarbi a Urbino, d'accordo con Forza Italia, quindi c'è stata questa unione e la promozione di Sgarbi e la vittoria con l'appoggio al sindaco Gambini. Ma questa elezione regionale però ci troviamo di fronte ad una Forza Italia che appoggia spacca da una parte e i Verdi, naturalmente abbiamo detto Luca Cerisoli, questo è positivo o è negativo? Ci possono essere delle ripercussioni nel governo praticamente di Urbino, visto che Gambini lo ha detto apertamente appoggia spacca? Allora, io penso che i sindaci, mi riferisco non solo a Maurizio Gambini che è il sindaco di Urbino, ma mi riferisco anche ai tanti sindaci che giorni scorsi si rincorrevano a fare la foto con i candidati di uno o dell'altro schieramento. Ogni sindaco dovrebbe essere al fuori della partita, perché il sindaco deve essere super partes, rappresenta una città, il primo cittadino che chiaramente rappresenta un consiglio comunale che è composto da più forze politiche. Ancora di più quando lo è a Urbino, perché voglio ricordare che a Urbino è stato il frutto di un lavoro di liste civiche, partiti politici di estrazione politica diversa. A Urbino abbiamo due liste civiche, i Verdi più Forza Italia, quindi puoi immaginare che chiaramente non abbiamo tutta la stessa visione dal punto di vista politico, però quello che ci tiene insieme è il bene per la città, il bene per questo territorio e sicuramente le regionali non saranno un momento di attrito, ma sarà un momento di ulteriore crescita. e quindi rispondendo alla sua domanda penso che i sindaci non debbano far campagna elettorale, non si debbano spendere né per l'uno né per l'altro, perché sono i primi cittadini e rappresentano la comunità. Dall'altra parte poi ognuno con le proprie sensibilità deve puntare a un progetto e qui faccio un appello al cosiddetto voto utile. Noi abbiamo bisogno, voglio ricordare a chi ci ascolta, che il Consiglio regionale è passato da 43 consiglieri a 30. Devo dire che non condivido molto questa scelta per un solo punto di vista. Dobbiamo tagliare i costi alla politica, questo è vero. Lo Stato o la Regione non può pesare così tanto sulle spalle dei cittadini perché ci sono dei costi enormi, ma sicuramente non si può tagliare la democrazia. Per non tagliare la democrazia e per non tagliare la rappresentanza oggi bisogna fare una scelta mirata, che è il cosiddetto voto utile, per non lasciare sguarnita soprattutto l'entroterra di rappresentanti istituzionali. Quindi io mi candido, mi propongo come megafono di questo entroterra ormai dimenticato, di questo entroterra che ancora oggi, dopo anni e anni di battaglie, rivendica ancora il cosiddetto riequilibrio territoriale che non si è mai realizzato. Noi purtroppo paghiamo un isolamento troppo grave, un isolamento infrastrutturale. Basti pensare da quanti anni lavoriamo sul progetto della Fano Grosseto e oggi, lo dico sempre, perché è stata fatta la quadrilatero che ha collegato Macerata Ancona a Roma e non è stata realizzata la Fano Grosseto. Perché purtroppo i nostri rappresentanti in Regione, come al Governo, non hanno portato avanti le nostre esigenze. Adesso è il momento di dire basta, è il momento di concentrarci e di fare cosiddetta, tra virgolette, lobby buona per sostenere i progetti che servono a questo territorio. E poi questo territorio non può essere considerato una riserva, cioè quando ci sono le elezioni, dieci giorni prima ci facciamo vedere e andiamo a cercare i voti. Per chi mi conosce sa, conosco a menadito questi territori, li ho sempre frequentati, li continuo a frequentare e sono stato sempre un loro punto di riferimento, sia dal 2005 al 2010, quando sono stato assessore della prima giunta a spacca per quanto riguarda i lavori pubblici e sia oggi come amministratore unico dell'Assam. Quindi dico poi per coloro che possono pensare che ad Urbino ci sia stato un cambiamento di rotta e poi in Regione di nuovo un altro cambiamento rispetto ai posizionamenti politici. Ad Urbino è accaduto questo, che il sottoscritto era stato autore di una proposta politica, cioè quella di vedere un Vittorio Sgarbi protagonista di una stagione amministrativa della città, di arricchire con la sensibilità del professor Sgarbi le proposte di quella città e c'è stata una parte politica che ha rifiutato nettamente e sonoramente questa proposta, escludendoci dalla corsa alle primarie. Nel momento in cui siamo stati rifiutati e quindi la corsa alle primarie non c'è stata perché le primarie come tutti hanno visto sono state primarie di partito, allora a quel punto abbiamo condiviso un percorso con chi ha condiviso i nostri progetti, le nostre proposte. Devo dire che la stessa cosa non è stata per la Regione, perché in Regione i Verdi si collocano all'interno del centrosinistra, si collocano con la loro sensibilità ecologista, ambientalista, all'interno di un progetto di governo dicendo sinistra, siamo stati fondatori dell'Ulivo e oggi ancora militiamo sempre dalla stessa parte. Ci sono state delle primarie, molti lo sanno ma lo ripeto, io non ho sostenuto da subito Ceriscioli per quanto riguarda le primarie, ma sono stato uno dei sostenitori di Pietro Marcolini che è l'attuale, anzi l'ex assessore, perché poi si sono dimessi, l'assessore al bilancio della Regione Marche, persona molto capace e competente. Però devo dire che anche Luca Ceriscioli ha avuto la possibilità, il modo di farsi apprezzare, già prima come sindaco di Pesaro, oggi come la persona che ha saputo vincere le primarie in una battaglia difficilissima, perché voglio ricordare sono andati a votare quasi 45.000 persone, un dato storico, un risultato incredibile anche sulla qualità del risultato, perché voglio ricordare mentre dopo le primarie in diverse regioni d'Italia vi sono stati ricorsi, ci sono stati esempi negativi di come si sono svolte le primarie e quindi con problemi da risolvere, le Marche invece non hanno avuto nessun problema, hanno avuto una presenza importante, copiosa di partecipanti, ha vinto Luca Ceriscioli e io in maniera molto convinta la democrazia è questo, cioè chi vince le competizioni ha il diritto di governare e quindi una persona che ha avuto così grande sostegno ha dimostrato di far bene il sindaco, oggi viene proposto a guida di questa coalizione. Cosa ne pensa invece dell'ultima notizia che ci ha dato il fatto quotidiano sui rimborsi elettorali e dove lì insomma non vengono risparmiate né a destra né a sinistra, qual è il suo pensiero? Io innanzitutto voglio dire che il sottoscritto non è interessato direttamente da questo tipo di problema in quanto da un lato non risiedevo all'interno del Consiglio regionale, quindi potrei speculare come fanno tanti su questa problematica ma non lo faccio perché sono conoscitore di quella che è la normativa regionale, quella che è la situazione. Noi nelle Marche a differenza dalle altre regioni ci troviamo di fronte non a una dimostrazione di illegalità latente o di problematiche legate allo sperpero di denaro pubblico, di appropriazione in debita o comunque di interventi gravi rispetto a quest'azione. Nelle Marche purtroppo non c'era un regolamento che prevedeva cosa si poteva acquistare e cosa non si poteva acquistare. Poi è chiaro che rimaneva nella sensibilità di ognuno, nell'opportunità di fare degli acquisti o non farli. Quindi io non parlerei di grandi o di gravi illegalità, sono delle illegittimità che comunque vengono sanzionate agli occhi della pubblica amministrazione e quindi anche del codice. Però le confinerei come in una caduta di stile, le confinerei in una inconsapevolezza di azione rispetto invece a un malcostume generale che alberga più in altre regioni che non nella nostra. Un'ultima domanda, chi è Gianluca Carabs? Gianluca Carabs era ed è un giovane che è arrivato qui nelle Marche per studiare giurisprudenza d'Urbino dove ha conseguito nel 2002 la laurea in legge, dove nei banchi dell'università ha conosciuto la politica perché il mio percorso politico arriva dal movimento studentesco, arriva dalle tante battaglie che abbiamo fatto all'interno dell'università a favore dei diritti degli studenti e che dopo ha avuto un epilogo partitico e anche un impegno civile esterno al mondo universitario che mi ha visto da subito impegnato in queste battaglie ecologiste e ambientaliste a favore della qualità dei prodotti agroalimentari, del biologico, della tutela del territorio, della tutela dei cittadini e dei loro diritti. Quindi ho avuto l'impegno e quindi la sensibilità di poter, di dover far politica, di essere in prima linea. Io non mi sono mai sottratto da quanto ero rappresentante degli studenti al liceo, quando sono stato all'università e anche oggi, sempre in prima linea ma sempre per un territorio è sempre per valorizzare un percorso. Io sono convinto di una cosa. Oggi la politica, diciamo anzi l'opinione pubblica, attacca chi fa la politica per professione. Io dico questo però, che la politica deve riappropriarsi del linguaggio della competenza e ha bisogno di professionisti. Ha bisogno di professionisti perché non si può arrivare in un Consiglio regionale senza sapere la differenza tra una determina e una delibera. Non si può arrivare in Consiglio regionale non sapendo che cos'è un atto amministrativo. Non si può arrivare in Consiglio regionale non conoscendo assolutamente qual è la vita istituzionale dei comuni, delle province o comunque qual è l'assetto istituzionale dello Stato. Cioè noi abbiamo bisogno di conoscere i problemi delle persone e di dare le soluzioni. Oggi la politica gridata può solleticare qualcuno, può raccogliere consensi ma sicuramente non può risolvere i problemi. Allora io sono contrario alla demagogia, al populismo. Sono della politica del fare e di dare soluzioni. Ecco perché la mia sensibilità, io dopo l'università ho avuto modo di approfondire i miei studi. Per fortuna sono riuscito sempre a fare la cosa per la quale sono portato e quindi mi piaceva fare. Ho approfondito attraverso studi e ricerche in economia dei prodotti agroalimentari e dell'ambiente. Ho studiato i mercati complessi. Ho avuto modo di approfondire che cosa ci può dare la competitività rispetto a quello che abbiamo, a quelle che sono le nostre eccellenze. Ho fatto addirittura una tesi di dottorato proprio sul modello Marche e sui giacimenti naturali che possono portare questo valore aggiunto e questa competitività che noi cerchiamo nei mercati attraverso altre cose. Quindi diciamo da un lato la cultura, da un lato la preparazione, la formazione e dall'altra la voglia di fare. Quindi ci mettiamo in gioco e ancora oggi siamo qui a chiedere il consenso dei cittadini e l'appoggio di tutti quelli che mi riterranno all'altezza di poter svolgere questo ruolo. Bene, allora quindi Gianluca Caraps, quota verde nella lista Uniti per le Marche. La prima domanda è una domanda secca. Sanità marchigiana 22.000 dipendenti di cui 3.000 medici, 9.000 infermieri e 10.000 amministrativi. Non sono un po' troppi? I numeri chiaramente determinano questa domanda e chiaramente l'organizzazione della sanità può essere sempre migliorata. Perché letti così i numeri senza darci un perché sembrerebbe che chiaramente gli amministrativi rispetto ai medici, rispetto agli infermieri che si occupano direttamente e propriamente del sistema sanitario sono numeri ridonnanti. Però devo dire che questo modello è un modello che ha primeggiato rispetto all'organizzazione rispetto all'organizzazione delle altre regioni. Ciò non vuol dire che però questo sistema funzioni perché le liste d'attesa sono ancora molto lunghe, alcuni territori sono sguarniti di assistenza sanitaria che è di presidio territoriale, mentre chiaramente l'asse costiero viene favorito rispetto a un'entroterra che è sguarnita. Ci troviamo sempre rispetto al solito discorso che è quello che c'è un'area che è al ridosso della costa che ha servizi pubblici adeguati e c'è una realtà invece dell'entroterra che non li ha. Quindi il riequilibrio territoriale passa attraverso questo concetto, cioè dare a tutti i cittadini gli stessi servizi, anche se nell'entroterra costa di più. Però proprio perché qui costano di più, la vita è più difficile, bisogna dare più servizi e quindi la sanità deve migliorare proprio in questo, in dare certezze, sicurezza e assistenza dove è più complicato e più complesso. Bene, allora posti letto pro capite nella provincia di Pesaro sono 2,7, nella provincia di Ancona 4,6. E qui Ancona sono più curati. Come la mettiamo Carabs? Ma io spero che questo dato sia un dato chiaramente numerico che dipende dagli abitanti perché Ancona è chiaramente un territorio più vasto di quello di Pesaro. Diciamo e spero che questi numeri vengano rispetto proprio a questo. Però penso che un presidente, diciamo Ceriscioli, che è un presidente di Pesaro e quindi chiaramente faccio un discorso un po' campanilista rispetto agli altri abbia più cura di quella che ha avuto spacca. Perché ricordo questo e lo trasmetto a chi ci ascolta e anche a lei. In Giunta, ma come in Consiglio regionale, non diventa lo scontro tra fazioni politiche. Cioè i Verdi la pensano in un modo, il Partito Democratico la pensa in un altro, il Centro Democratico in un altro, l'UDC eccetera eccetera. Ci sono i territori. Cioè ci sono i rappresentanti istituzionali di Pesaro che hanno una proposta. Ci sono quelli di Ancona che ne hanno un'altra. Quelli di Macerata ancora un'altra. Quindi è importante saper selezionare una classe di rappresentanti politici che abbiano le idee chiare e che siano la vera espressione di quel territorio e che sono disposti fino in fondo a fare la battaglia per la tutela di quel territorio. E allora a quel punto questi problemi potremmo praticamente contrastarli e non averli. Perché abbiamo delle persone che sostengono le esigenze reali del territorio. Bene. Ospedale unico. Ora parecchie persone sostengono che se realizzato porta via risorse. Quindi già voglio dire gli ospedali dell'entroterra sono praticamente quasi tutti smantellati, anzi riconvertiti e lo stesso rischio potrebbe capitare anche allo stesso ospedale di Urbino. Qual è il suo punto di vista sull'ospedale unico? Sì o no? Ma il mio punto di vista non è il problema dell'ospedale unico. Il mio punto di vista è che lì dove è stato collocato l'ospedale unico non è il posto migliore per farlo. Ce n'erano tanti. Si poteva scegliere altre localizzazioni. È chiaro che ancora una volta il problema è questo che il 43% degli abitanti della provincia di Pesaro Urbino vive sulla costa, vive Trafano e Pesaro. Quindi lì c'è un carico demografico molto importante che chiaramente fa fare queste scelte. Ma sono scelte che chiaramente sono scelte figlie del momento. Non sono scelte in prospettiva. Quindi noi se volessimo sviluppare un'altra zona e quindi ridistribuire e ricaricare quel carico demografico su altre aree per chiaramente creare un riequilibrio, bisognerebbe pensare un altro tipo di assistenza, quindi un altro tipo di ospedale unico. Però la cosa è certa e qui prendo un impegno. Cioè o ospedale unico, e poi dico questo, secondo me non ci sono neanche le risorse per fare l'ospedale unico, o ad oggi. Perché c'è una congiuntura economica devastante. I fondi, le risorse che ci sono in regione sono sempre meno. Oggi fare un investimento del genere non so in quanto tempo potrà realizzarsi l'ospedale unico. Però a prescindere da questo, l'ospedale unico non si può fare a scapito di altri territori, come l'ospedale di Urbino o come gli altri ospedali. Cioè noi abbiamo un problema nella sanità, che purtroppo ci sono delle aree, come dicevo prima, super servite. Delle altre praticamente che non hanno il presidio. Questo che cosa comporta? Comporta che i cittadini non hanno la possibilità di avere servizi. Però dall'altra parte è anche vero che se c'è un presidio e non ha performance di interventi, diventa anche un presidio pericoloso per chi chiaramente ne soffruisce. Perché sappiamo bene che le prestazioni mediche, soprattutto quelle specialistiche, devono avere una performance non limitata, ma deve essere una performance importante per dare poi la certezza che quell'intervento sia appropriato e che sia praticamente in regola rispetto all'intervento stesso. Quindi è importante calibrare questa offerta della sanità. Non si possono sguarnire i territori, ma non si può pensare di avere molti reparti in tutti i territori. Perché quel reparto provocarebbe per questo territorio un problema? Se noi creassimo, per far funzionare la sanità noi siamo una tv demagoga. Premetto questo, quindi adesso arriva una domanda un po' cattiva. Per far funzionare la sanità automaticamente in alcune regioni si devono inserire i privati. I privati spesso sono protetti e costruiti ad hoc con le lobby legate poi a sua volta con la politica. Ora, non è difficile pensare che se siamo costretti per fare una visita o per fare un esame, andare in certe cliniche, magari andiamo in Toscana, andiamo in Emilia, eccetera, mi domando per quale motivo una sanità pubblica non riesce ad organizzarsi esattamente come una privata. Cioè, ci mancano i fondi? Alla fine voglio dire, se io vado a fare una visita in una clinica privata, comunque dovrà essere pagata la prestazione e la pagherà la regione. Ora, se noi usassimo tutti questi ospedali ormai semismantellati, li trasformassimo con gestione pubblica, non privata, specializzate ognuno nel suo ruolo e magari andiamo a chiudere dei reparti non di urgenza negli ospedali aperti, perché secondo me se io mi devo curare una caviglia posso farmi anche tranquillamente andare, invece di andare in Emilia me ne potrei andare nella mia provincia di Pesaro in un qualsiasi ospedale attrezzato per questo. Ecco, la domanda gliela faccio in questi termini, so che è una domanda un po' particolare e molto demagona, però il tempo abbiamo pochissimo, salteremo le altre domande perché i dieci minuti su queste domande volano, mentre adesso è un po' lungo, lo sappiamo, quindi ci fermiamo a questa domanda. Io innanzitutto dico questo, che il privato non è sempre da condannare, il problema è la metodologia con la quale si coinvolge il privato, perché se c'è un'ivocità tra controllato e controllore allora c'è un problema. Se invece il privato in una gestione pubblico-privata venisse controllato in maniera adeguata a rimanere negli standard che la regione praticamente impone allora il problema chiaramente verrebbe molto limitato. Oggi il nostro territorio, io devo dire che è un'esperienza molto positiva rispetto a Montefettro Salute, per dire. Mia suocera ha avuto un intervento qui è stata assistita e ha avuto una guarigione pressoché perfetta. Quindi che cosa si vuol dire? Non è per forza che nell'ospedale unico si hanno le eccellenze, quindi rivedendo alla domanda che lei mi ha fatto prima, si potrebbe praticamente sulla guida del pubblico creare dei centri di eccellenza anche nelle aree interne, soprattutto in quegli ospedali che chiaramente oggi funzionano poco o funzionano solo alcuni reparti. Bisogna avere però una gestione, il problema è questo. Io una cosa condivido della politica amministrativa fatta finora dalla regione, unificare i centri di costo. Cioè noi non possiamo avere sulle marche un milione e mezzo di abitanti, 170 chilometri di costa, una regione che potrebbe essere un comune del Lazio o della Campania o della Lombardia, avere più centri di costo. Quindi ripartire le spese senza avere un controllo capillare di ciò che accade o ad Ancona o a Macerato o ad Ascoli. Quindi la gestione regionale unica va bene, il problema di fondo è che i territori non possono essere lasciati sguarniti. Bisogna presidiarli da un lato con i punti d'urgenza e dall'altro con una specializzazione dove chiaramente può essere portata avanti con eccellenza e qualità, chiaramente può essere fatta. Dicevo prima, Sasso Corvaro su alcune azioni, su alcuni reparti lo è. Quindi questo può essere una soluzione ai problemi che diceva prima. Bene, Gianluca, il suo tempo è praticamente finito. In pochi secondi per quale motivo dobbiamo votare lei? Bene. Innanzitutto bisogna votare Gianluca Carrabs perché è una persona per dare alla politica il linguaggio della competenza, come dicevo prima. Per dare alla politica un riferimento che c'è sempre stato e che non arriva nell'entroterra o nei posti solo a chiedere le preferenze o a chiedere i voti, ma si fa carico dei problemi delle comunità. E quindi se vogliamo coniugare oggi la conoscenza, la professionalità e la consapevolezza dei problemi di una comunità che è in affanno e vogliamo rigenerarla con un nuovo modello di sviluppo, il 31 maggio bisogna votare Uniti per le Marche, dare alla preferenza Gianluca Carrabs.